Allora, adesso facciamo un esercizio, prendiamo R2, prendiamo un vettore, fissiamo un vettore a piacere, come vogliamo sapere, questo è tutto, adesso ci avete presente le due operazioni fondamentali, cioè un vettore io lo posso sommare, ad altri vettori, oppure lo posso moltiplicare per uno scalare allora potete fare qualunque operazione sequenza di operazioni fondamentali voi vogliate potete utilizzare tutti gli scalari che volete ma come vettore potete utilizzare solo v facciamo un esempio posso fare 3v più v meno per 2 meno quando i? viene 7v chiaro? perché viene 7v? perché 3v più v va 2 per 4v va 8v8v meno poi inventate voi un'altra dai che posso fare? me la detti tu qua inizia lì facciamo 4 sì meno 3 fai ok sì facciamo meno 3v più 2v più 2v No, due no, più due vuoi. Facciamo... No, e... Se faccio qua, posso comprire a due per non stare. Non posso comprire a due. Allora, non posso. Più? No, meno, meno, meno. Meno... Meno... 4V. 4V. Ok. Fate il conto di quanto fa. Questo lo possiamo fare. Questa è la differenza tra due scalari e una muro. Quello è meno 70. Quando ho fatto... Meno 5V. Meno 5V. Meno 5V. Come abbiamo risolto stavolta? Allora, poi noi faremo se lo facciamo prima. 4-3 fa 1, no? 1 per meno 3 fa meno 3V. Qua abbiamo usato prima la proprietà distributiva a sinistra, poi la proprietà associativa. Poi, qua meno 3V più 2V meno 4V. Usate la proprietà associativa della somma. Qua meno V meno 4V. Chiaro? O. Questo, a livello geometrico, che significa... Allora, mettiamo che 5-2 era questo vittore qua. Qua stiamo a 2. Qua stiamo a 5. In un caso, lo moltiplicavo per 7. Quindi questo è... Quando arrivo a 14. Qua arrivo a 35. Questo è 7V. Nell'altro caso lo moltiplicavo per meno 5. Qua è meno 10. Meno 15. Questo è meno 15. Secondo voi, se vado avanti con questo tipo di operazioni, cosa posso ottenere? Cioè, se continuo a fare il gioco, questo gioco qua. Sembra la sesta retta. Sembra la sesta retta, ma non finiti. Io quando faccio queste operazioni qua ottengo dei vettori. Che vettori ottengo? Quindi rinuncio alla cosa che hai detto in maniera più precisa. Ottengo? Dei vettori che stanno? Sulla stessa retta. Sulla stessa retta. Non ottengo la retta. Ottengo dei vettori che stanno sulla retta. Posso uscire dalla retta? No, perché fino a che ci metto solo V, non esco mai da quella retta. E alla fine uscirà un multiplo di V. L'abbiamo visto sia prima che dopo. Fino a che uso solo V, usando le varie proprietà, alla fine arriverò. E i vettori della retta li posso ottenere tutti? I vettori della retta li posso ottenere tutti? Sì o no? Sì? O no? Sì. Sì. Meno male. Sì, perché? Perché io prendo un vettore, dovunque sia su questa retta. Sarà lambda Q, no? A seconda della lunghezza. Sarà un lambda positivo di questa di qua, un lambda negativo. Però ci sono sempre un lambda. Per quale motivo? Perché se prendete questa unità di misura 1, andate a misurare questo sarà lambda, volte questa lunghezza qua, e questo sarà lambda V. E come a ogni punto su una retta orientata corrisponde un numero reale. L'unità di misura la prendete uguale a V su quella retta orientata che ha la direzione V. E quindi a ogni punto su quella retta che rappresenta un vettore che corrisponde lambda V e viceversa. Quindi ottengo i vettori di questa retta. E funziona sempre con qualunque vettore questo discorso, no? Ottengo. Che succede se cambio vettore? Invece di prendere 5 e 2 metto 2 e 4. Eh? Una retta diversa. Ottengo sempre una retta però. Sempre? No. Quando no? Tipo 0 e 0. Eh. C'è un caso in cui non funziona. Se parto da 0 e 0... Che succede? Rimango all'origine. Quindi... Se facciamo questo gioco, questo esercizio, se parto da un vettore V e faccio somme, eccetera, ma come vettore uso sempre solo V, posso usare tutte le scale che voglio, e mi esco tutti i multipli di V, che stanno su una retta. Se invece, parto dal vettore nullo, non ottengo niente, ottengo solo il vero vettore nullo che già c'è io. Quindi si dice che il vettore nullo non genera niente, genera solo il vettore nullo. Invece il vettore V, che cosa genera? La retta passante per qui. Ok. Adesso invece, di fare... di partire da un vettore, partiamo da due vettore. V2 lo scrivo io. Adesso che cosa possiamo fare? Per esempio, possiamo fare... 3, 1, meno V2. Quanto fa? ... ... ... ... ... ... ... 3, 3, 5, 2, ... ... ... 1, 15, 15, 6, meno 1, 15, 6, meno 14. Poi posso fare anche 1-3v2. Questo quanto fa? Tra l'altro scriviamo sui risultati. 1, 14, 2, virgola, meno 1. Se ripeto questo gioco cambiando gli scalari, quali vettori ottengo? Stavolta non stanno più su una vetta. Quali vettori ottengo? Dove stanno però? Sicuro stanno? Stanno in R2. Stanno in? R2. In R2 ci stanno. Da R2 non si può uscire, che è la variazione interna. La variazione interna e l'altra comunque va finire in R2. Chiaro? Qual è il punto? I vettori di R2 in questo modo li posso ottenere tutti o no? Secondo voi? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Facciamo il solito sondaggio? Allora, invece di fare un sondaggio che... la fallacia del termine intermedio, no? Se il tizio dice A e quell'altro dice B, la verità sarà in qualche punto intermedio. se uno dice che 2 più 2 fa 4, l'altro dice che 2 più 2 fa 5, vediamo? 2 e mezzo. Il power è del mezzo. il power è del mezzo. Posso anche dire che uno dice che 2 più 2 faccia 5, l'altro dice che 2 più 2 faccia 6. Può essere peggio ancora. E può accadere anche volutamente. Mettiamo che... ti vogliono fregare. Una cosa che sta a 100 euro te la vogliono far pagare di più. Allora tu vedi che quello si dedica con il commerciante che quello che il commerciante diceva che vada dando 150 euro e quello gli offre 120 e quello non glielo dà e quello se ne va. Poi il commerciante fa la faccia quasi pendita come quasi a 120 è disposto a darlo allora tu vai subito là, sicuramente. Cioè l'ha negata a quello, quindi deve essere un prezzo buono. Quindi vai, lo compri per 120 e poi vai provando il po' che sta facendo. È chiaro? E magari la sceneggiata è stata fatta a tuo uso e consumo. Comunque, tornando qua. Come possiamo vedere se riusciamo a ottenere tutti i vettori? Un vettore come è fatto? Un vettore generico v, come è fatto? Avrà due coordinate. Come la vogliamo chiamare? Chiamiamola x e y. Vedete qua c'è un v. Solitamente c'è un casino con le notazioni. Perché? Allora se io prendo i vettori e chiamo v per indicare un vettore e poi v1, v2 e v3 per indicare vettori diversi ma non posso indicare v1 e v2 per indicare le coordinate. Quindi magari le coordinate le chiamo x e y. Se invece x le uso lettere diverse per indicare, uso, che ne so, v, u, w, allora le coordinate le posso chiamare v1, v2 e v2. Si usano entrambi i sistemi, dipende dai casi, ma si capisce dal contesto, quindi non ci... vi dovete abituare. Oltretutto c'è una doppia problematica, cioè che in genere le coordinate fino a r2 e r3 in genere si chiamano x ascissa, x, y ascissa ordinata, x, y, z se stiamo in r3 da r4 in poi si chiamano quei numeri. Quindi si usano le lettere, per esempio x che avrà coordinate x1, x2, x3, x4, x5 quindi x, y, z in particolare si usano molto spesso sia come nomi di coordinate che come nomi di vettore in analisi. Vi dovete abituare. Noi, sul libro si capisce meglio perché c'è stato il classetto, eccetera, comunque in questo caso è chiaro, siamo in r2 e x, x, x e so, r2. Allora, questa scrittura qua, di che tipo è? Non è tipo lambda v1 più mu v2, ok? Almeno questa operazione la posso fare perché io posso prendere v1 multiplizzato per lambda, prendere V2 e moltiplicarlo per mu e poi sommare questa la posso sicuramente fare poi potrei fare operazioni apparentemente più complicate però almeno questa la posso fare allora vediamo un po' se riesco a far uscire V cioè la mia idea la mia idea io ho lambda e mu sono generici allora imboniamo che lambda V1 più mu V2 faccia V ok? cosa si traduce in termini di coordinata? allora chi era V1? a V è il sinuso e lo sappiamo chi è V1? sta scritto là 5 e 2 chi è V2? 1 e 1 e quindi quanto viene qua? lambda 5 eh? lambda 5 lambda 5 no 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 viene 5 lambda più mu prima componente 5 lambda prima componente mu qua la trovo viene 5 lambda più mu si mette sempre prima il numero 5 lambda più mu da quest'altra parte quanto viene? 2 lambda più mu e 1 e questo deve essere uguale a questo allora in che si traduce? la nostra guagianza in che si traduce? in uno? si ah è un sistema cioè noi dobbiamo avere 5 lambda più mu uguale a x e 2 lambda più mu uguale a x se vuoi risolvere questo sistema io direi di io direi di sì per chi? cioè risolvere che cosa significa? significa x e y e chi sono i dati? quelli che voglio fare uscire e lambda e mu sono le incognite cioè quelle che posso decidere posso trovare lambda e mu che soddisfino il sistema? sì perché? chi è lambda? come facciamo a fare lambda? a occhio dai x meno y fratto 3 questo se ne va lambda mu x meno y 2 mu se ne va viene 3 lambda sinistra divido con 3 e attengo la poi che cosa faccio? sostituisco questo valore di lambda in una delle due equazioni per esempio nella seconda qua mi viene 2 terzi per x meno y uguale y quindi mi viene 2 terzi x uguale y terzi quindi semplificando i terzi viene y uguale 2x a questo punto a questo punto in realtà a me mi serviva scusate poi perché non c'è la mu ho dimenticato allora 2 terzi x meno y più mu uguale y quindi mu uguale porto dall'altra parte e quindi mi viene 5 terzi y meno 2 terzi e quindi mi viene 5x meno 2x fra 2 allora vedete se io moltiplico questa equazione per 5 faceva 10 lambda più 5 mu uguale 5y questa equazione per 2 faceva 10 lambda più 2 mu uguale 2x e poi faccio la differenza 5y come 2x i lambda se ne vanno 5 mu meno 2 mu fa 3 mu divido per 3 ok questa è la funzione allora uno può dire ma siamo sicuri di aver fatto bene? allora come si fa a verificare? come si fa a verificare? proviamo a mettere dei numeri per esempio x xy netto 13 21 facciamo 13 vabbè 13 20 ok quanto viene lambda? l'ambra viene meno 8 terzo che 13 meno 21 fa meno 8 e mu quanto viene? 65 meno 42 fa 23 terzo adesso proviamo a fare meno 8 terzo 5 e 2 più 21 terzo più 21 terzo 1 1 andiamo a vedere quanto viene 23 23 23 ok ok ha investito x e y nella seconda nella per trovare mu ha fatto 5x meno e quindi vediamo un po' se torna è giusto se no torniamo in dire e correggiamo allora vediamo subito e innanzitutto i vettori quali erano i vettori di partenza erano 5 e 2 giusto? adesso proviamo che ci sta l'errore l'errore ho visto c'è allora lambda sembra questo vediamo vediamo un po' se ci metto 1 1 deve venire 0 1 se ci metto 5 2 si è quasi ha ragione 5 x se ci metto no no 5 2 è la risposta 5 x 10 10 10 10 10 10 10 potrei aver sbagliato anche a sostituirlo sì allora lambda è la risposta è la risposta ma quella lambda era per 5 2 più molto era per 1 1 no? se io qua se io qua metto 5 2 mi viene lambda uguale 1 10 meno 10 quindi è giusto allora quando ho calcolato un muro allora devo fare 5 per 21 che fa 105 meno 26 che fa 79 vedete questo lo vedete sì adesso funziona no no la soluzione era giusta ho sbagliato ok allora adesso andiamo a fai il conto meno 40 terzi più 79 terzi fa più 39 terzi che fa più 13 poi l'altro viene meno 16 terzi più 79 terzi che fa più 63 terzi adesso semplificate via di 20 quindi la soluzione era corretta in realtà è più facile ancora se invece di andare a mettere 13 21 poi come ho fatto per accorgermi che la soluzione era corretta e l'errore stava ho messo 5 2 cioè se voglio fare uscire il primo 5 2 allora che cosa vi viene 5 meno 2 fratto 3 fa 1 10 meno 10 fratto 3 fa 0 e infatti se voi fate 1 per 5 2 più 0 per 1 1 vi viene 5 2 perché avete preso il primo e il secondo se invece qua ci mettete 1 1 qua vi viene 0 e qua deve venire 1 infatti 5 meno 2 fratto 3 è chiaro? è chiaro? quindi tornando indietro cosa abbiamo ottenuto? cosa abbiamo dimostrato? che possiamo ottenere qualunque vettore cioè se partiamo da v1 uguale 5 2 e v2 uguale 1 1 facendo questo tipo di operazioni possiamo ottenere qualunque vettore però abbiamo ottenuto anche un'altra cosa che operazione qua abbiamo fatto? non abbiamo fatto una sequenza come prima con le parentesi eccetera eccetera ma abbiamo fatto un'operazione un po' più semplice cioè abbiamo preso il primo vettore e lo abbiamo moltiplicato per uno scalare poi abbiamo preso il secondo e lo abbiamo moltiplicato per uno scalare e poi abbiamo fatto la somma è necessario può essere necessario fare più operazioni per ottenere di più? no perché se vi ricordate anche prima quando facevamo tutte quelle operazioni poi andavamo a semplifica partendo da un vettore veniva un multiplo di un vettore se partiamo da due vettori e poi componiamo operazioni ma sempre dello stesso tipo i vettori sono sempre questi due ma le operazioni sono sempre di somma prodotto per gli scalari che ci aggrada alla fine verrà sempre semplificando uno scalare per il primo più uno scalare per il secondo quindi tanto vale scriviamo direttamente uno scalare per il primo più uno scalare per il secondo questo tipo di operazione si chiama combinazione lineare poi la vediamo per bene domani chiaro definiamo cos'è una combinazione lineare allora noi cosa abbiamo visto? abbiamo visto che se facciamo la combinazione lineare di questi due vettori a varia dei coefficienti cosa otteniamo? cosa possiamo ottenere? qualsiasi vettore del piano più di quello possiamo ottenere? no perché il piano non possiamo uscire dal piano quindi con due vettori questi due vettori andando a fare la combinazione lineare possiamo ottenere tutti i vettori questo funziona sempre? innanzitutto i due vettori come devono essere? diversi ma non basta non devono essere non nulli e non basta non devono essere a linea perché? allora se qua ci metto 5 e 2 e qua ci metto 10 e 4 10 e 4 io lo generavo già con 5 e 2 quindi se faccio facciamo un esempio se io scrivo 3 per 5 e 2 più 5 per 10 e 4 questo altro non è questo 8 fuori un 2 in evidenza questo diventa 10 per 5 e 2 più 3 fa 13 e 5 e 4 capito? quindi stavolta mentre per generare una retta mi basta un vettore e basta che non sia nullo se ce ne ho 2 questi quant'è che sono significativi? quando sono non allineati allora mi genera tutto in piano se sono allineati che mi genereranno? la retta a meno che non siano tutti e due nulli e allora genera solo l'origine quindi la cosa si complica ora vediamo un'altra cosa se io invece di in partenza invece di 2 e 3 ne uso 3 cosa otterrò? che otterrò quindi? in generale sono diversi non sono allineati sempre in piano sempre in piano perché più di R2 è un po' su 5 quindi se sto in R2 o ne uso 2 o ne uso 3 o ne uso 53 sembra quale è? addirittura può succedere che se ne uso 53 ma sono tutti e 53 allineati sempre la retta otterrò sempre la retta se fossero tutti e 53 il vettore nullo otterrò sempre il vettore nullo quindi come vedete diciamo per generare le 2 ne bastano 2 però vanno scelti con un minimo di criterio poi l'altra cosa sul che abbiamo ottenuto qual è? qual è il tipo di operazione che facciamo in realtà? in ogni caso quella che si chiama una combinazione lineare quindi l'idea è io quando ando a fare queste operazioni ho a disposizione sicuramente le combinazioni lineari queste sono le operazioni che mi interessano il numero di vettori partenza è fisso e faccio le combinazioni lineari cosa ottengo? sostanzialmente se uso un vettore se uso 0 vettori cioè il vettore nullo ottengo solo il vettore nullo se uso un vettore ottengo una retta se uso 2 con un certo criterio otterrò un piano se ne uso 3 e siamo nello spazio non è detto che i 3 siano inutili rispetto a cioè uno dei 3 sia inutile come era prima per forza magari con 3 riesco a generare tutto l'ossi per esempio se io prendo i vettori 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 x per il primo più y per il secondo più 0 per il terzo mi fanno x, y, 0 chiaro? quindi con 3 vettori posso generare tutto lo spazio 4 non servono allora vedete che si comincia a delineare un concetto che è quello di dimensioni cioè tendenzialmente se io uso k vettori e faccio le combinazioni lineari otterrò uno spazio un sottospazio di dimensione k però dobbiamo capire qui che è un sottospazio poi cos'è una dimensione cos'è un sottospazio di dimensione k perché qua non posso ottenere 3 vettori uno deve essere forse inutile perché siccome tutto lo spazio vedremo a dimensione 2 allora io quando ho 3 vettori se i primi 2 erano non allineati automaticamente ci posso generare il terzo quindi il terzo è inutile posso generarlo con i primi 2 e questi concetti li dobbiamo precisare non è facilissimo precisare però lo dobbiamo fare chiaro? ok allora adesso solo una cosa vi do così la meditate oggi la meditate fino a domani può essere che vi entri in testa mancano dieci minuti abbiamo giusto il tempo di dare la definizione allora questa definizione viene se qualcuno quando avete fatto qualcuno ha fatto l'esame di analisi 1 ha visto che ci stavano quelli a fare l'esame di analisi 1 a cui veniva chiesto a tutti la definizione che sto per dare quindi regolatevi uno allora sia uno spazio vettoriale su un campo caldo siano v1 vh appartenenti a v la prima cosa si dice combinazione lineare di v1 v2 vh ogni vettore v v vettico sommo per j che va da 1 fino ad h di lambda j u j dove j dove lambda j appartiene a c cioè che cos'è una combinazione lineare non è altro che ogni vettore lo moltiplicate per uno scalare e poi fate la volta però non è questa la definizione che viene chiesta a tutti cioè questo qua lo dovete sapere ovviamente però questo è facile la definizione che viene chiesta a tutti è la definizione di dipendenza e indipendenza lineare la definizione siano v1 vh appartenenti a v come sopra v è uno spazio che ti dà sul corpo k v1 vh si dicono linearmente dipendenti se 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 per definizione esistono lambda 1 lambda h appartenenti a k non tutti nulli e tali che tali che la somma per j che va da 1 ad h lambda j sia il vettore quindi cosa deve succedere? deve succedere che esiste una combinazione lineare nulla che mi dia il vettore nullo tale che i coefficienti non siano ad ottenuti esempio 3v1 meno 5v2 più 6v4 uguale questo è un esempio di vettori realmente dipendenti allora qua supponiamo che siamo sparsi vettori su r vettori quando è che si dico dipendenti? quando esiste una combinazione lineare che mi da il vettore nullo con i coefficienti non tutti nulli diciamo che i vettori erano v5 erano 5 v1 v2 v3 v4 e v5 e io so che v1 meno 5 v2 più 2 v4 è uguale al vettore nullo secondo voi di questi 5 vettori quando vado a fare le combinazioni lineare sono tutti utili? non solo 3 e 5 sono 3 e 5 sono in realtà 3 e 5 possono essere utilissimi non lo sappiamo non abbiamo informazioni su q3 e q5 cosa vi dice quella relazione e ce n'è uno inutile qual'è? questo è un esempio che si chiama loaded question oppure domanda complessa qual'è? e uno ha scelto tra q1 v2 e v4 perché? v1 è uguale a 5 v2 meno 2 v4 lo puoi fare utilizzando v2 e v4 ma v2 chi è? è v1 più 2 v4 fratto 5 quindi anche v2 lo puoi fare utilizzando v1 e v4 quindi tu puoi eliminare v1 puoi eliminare v2 ma puoi eliminare anche v4 perché v4 è uguale a 5 v2 meno v1 fratto 2 cioè puoi ottenere uno dei tre scegli tu quale eliminare ma non servono tutti e tre perché se ne hai due tramite una combinazione lineare puoi ottenere il termine qual'è uno che puoi ottenere? affinché tu possa ottenere uno di questi tre il coefficiente davanti a questi perché puoi ottenere uno di questi tre? perché il coefficiente davanti a questi è diverso da zero allora tu lo puoi portare dall'altra parte e dividere il coefficiente perciò per avere la linea di dipendenza ci vuole almeno un coefficiente diverso da zero perché significa che almeno uno è inutile se più di un coefficiente è diverso da zero sempre uno è inutile però puoi sceglierlo tra chiaro? in qualche modo come concetto però la definizione è questa adesso questo discorso lo approfondiamo domani non lo voglio mettere per iscritto adesso invece siccome ho quattro minuti in quattro minuti mi riuscite a negare questa definizione dovete dirmi quando i vettori si dicono linearmente indipendenti quando altri vettori si dicono linearmente indipendenti che significa dovete fare la negazione di questa affermazione negare significa che ogni volta che prendo una combinazione lineare a coefficienti non tutti nulli quindi il vettore combinazione lineare non mi viene nullo cioè quali sono i vettori le combinazioni lineari che mi vengono nulle solo quelle con i coefficienti tutti nulli quindi scrivo qua osservazione uno guanga sono linearmente indipendenti quindi se se solo se sommatoria ci metto la parentesi se solo se tutto quello che sta scritto dentro la parentesi sommatoria per j che va da 1 ad h di lambda j q j che è uguale al vettore nullo se solo se lambda 1 uguale lambda 2 uguale uguale lambda h uguale a 0 fate attenzione che se i coefficienti sono nulli è ovvio che qua venga il vettore nullo non ci sta non avete scoperto niente quindi normalmente voi mi dite la definizione di vettori indipendenti me la date bene poi dico quando è che sono i vettori indipendenti è quando i coefficienti sono 0 viene il vettore nullo no se i coefficienti sono 0 il vettore nullo viene automaticamente la cosa importante è che se viene il vettore nullo i coefficienti devono essere 0 ecco io l'ho detto l'ho spiegato bene quando arriviamo all'esame metà di voi forse un po' meno della metà lo dice male chiaro? quindi battete la testa fino a che non lo avete capito non dipende da me perché se no non si piega perché l'altra metà lo capisco Grazie.